Ben trovati amici del Centrometeo Italiano. Tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio la nostra penisola si troverà sul bordo orientale dell'anticiclone e dunque sarà sfiorata dal flusso di aria fredda diretto verso i Balcani. Durante la prossima settimana sarà ancora l'anticiclone a prevalere sull'Europa, ma attenzione perché tra l'8 e il 9 gennaio sia il modello GFS che l'europeo ECMWF mostrano il transito di una piccola goccia fredda sul Mediterraneo. Le traiettorie di queste ultime sono assai difficili da inquadrare, quindi per adesso possiamo dire soltanto che durante la prossima settimana potremo avere qualche disturbo sull'Italia. Fin quasi alla metà del mese tutti i principali modelli mostrano un anticiclone in grande spolvero, con tempo in prevalenza stabile. Da monitorale solo gli spostamenti di queste circolazioni secondarie che potrebbero arrecare brevi peggioramenti in un contesto termico comunque dominato da anomalie positive. Trattandosi di tendenze vi invitiamo allora a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Buone feste da parte del Centro Meteo Italiano!